Eccomi tornato con una nuova tazza di teccado tra le mani a riprendere il filo della nostra discussione intorno al documentario American Moon di Massimo Mazzucco secondo cui non siamo mai andati sulla luna e eravamo rimasti alle dimissioni un po' sospette e in questa quarta puntata parliamo della dimissione di Walter Shearer. In quella precedente abbiamo parlato delle dimissioni dei amministratori e viceamministratori della NASA James Webb e Robert Simmons e abbiamo visto quale potrebbe essere la spiegazione riguardo a loro, cioè un gioco politico visto che arrivano le nuove elezioni quindi loro hanno lasciato perché con l'arrivo dei repubblicani Nixon, come sembrava molto probabile, non avrebbero cambiato comunque amministratore quindi hanno lasciato per proteggere il budget della NASA. Ma invece Walter Shearer che scusa lui era uno degli astronauti più importanti della NASA in quel momento e sarebbe stato magari tra quelli che la NASA avrebbe mandato sulla superficie della luna. Quindi perché lasciare il posto? Non è sospetto? Non è che magari sapeva qualcosa e voleva andarsene perché non volevano avere niente a che fare. Allora, da dove iniziare? Beh, intanto una piccola premessa riguardo alla storicità di questi eventi. Come si studia un evento storico da questo punto di vista? Intanto si raccolgono le fonti, ok? Quindi si accumula tutte le fonti possibili e si mettono insieme. Dopodiché c'è un lavoro di incrocio di fonti e questo è molto importante perché è tipo l'opposto di Ghostbusters. Vi ricordate in Ghostbusters non bisogna mai incrociare i flussi. Beh, qui bisogna incrociarli sempre. Bisogna sempre avere prove e controprove, varie biografie, vari documenti per cercare di trovare specialmente quando si ragiona di biografie quella che potrebbe essere la verità o almeno quella che è la tua ricostruzione in quel momento perché in storiografia, in storia non c'è mai la verità. Quella che stai componendo in base ai documenti che ti sono arrivati, in base alla tua cultura in quel momento eccetera, stai dando una lettura, stai costruendo una storia tua. In base ovviamente ai documenti. Ci sono delle regole e non è che uno arriva a caso e dice, ma secondo me Carlo V era un elfo. Certo, no, non puoi fare queste cose. Quindi ti devi comunque basare su delle cose. E capisco, da questo punto di vista, mi sento tirato in causa perché l'obiezione di un film come American Moon è che un evento storico non sia avvenuto nel modo in cui tutti pensano. Per cui l'obiezione di Mazzucco è di storiografia perché nel modo in cui è stata fatta la storia di Apollo 11 e poi una nuova ipotesi di lettura storica. Ma per fare questo bisogna basarci su dei documenti, altrimenti si parla di aria fritta. Tutti possono avere le loro opinioni, se ci troviamo al bar io posso dire che Carlo V aveva un naso di tre metri e poi dire no, secondo te era un pesce. Però l'opinione conta fino a un certo punto finché non abbiamo dei documenti e non si parla solo di dire, ma guarda questa foto le ombre non sono giuste. Non è quello. Dico documenti riguardo a singole motivazioni. E quando si parla di biografie è difficile perché si parla di soggettività. Se noi vogliamo risalire al motivo vero e proprio per cui Walter Shearer ha lasciato, stiamo parlando di un essere umano. Non troverai mai una risposta netta, certa, non troverai la risposta in cui Walter Shearer ha lasciato, che ne so, perché non poteva più farlo perché boh è stato assedito un rinoceronte e ha perso l'uso delle mani. Quella è una risposta sicura, certa, ovvio perché ha lasciato, perché c'ha le mani. Mentre in questo caso non è così facile. È qualcosa di soggettivo, personale. Se lui ha lasciato perché voleva passare più tempo con la famiglia e non l'ha detto in maniera chiara, nittida, dicendo solo questa come motivazione, boh puoi risalire a varie motivazioni. Puoi cercare di ricomporre la sua storia personale, ma comunque aveva a che fare con un essere umano. Quindi questo lo dico per onestà, perché qualsiasi risposta vi dica io, oppure Massimo Mazzucco, è comunque parziale rispetto a quella che era la sua vera risposta, che la saprà solo lui, ma non c'è più, quindi fine. Però, risalendo, incrociando le fonti, possiamo avere degli indizi su quale potrebbe essere la più probabile. E, per esempio, sappiamo il momento in cui ha lasciato la NASA e sappiamo quali erano le sue risposte all'epoca e quali sono state le sue riflessioni successive. Sappiamo come si è comportato prima e dopo. E, prima di iniziare a vedere queste cose in dettaglio, voglio solo premettere che lui è un astronauta. Quindi, se si parla di dare delle basi solide per cui dobbiamo sospettare che l'intero programma Apollo era finto, che gli astronauti non sono mai andati sulla Luna, dire, beh, lui ha smesso, ok, ma tutti questi altri no. Quindi, sul piatto della bilancia, solo uno che ha smesso, e non è molto più credibile, almeno per me lo è, dire, avrà avuto le sue motivazioni. E sarebbe diverso se, tipo, tutti gli astronauti avessero dato le dimissioni. Se ci fossero state delle dimissioni in massa, dici, vabbè, insomma, ognuno può avere le sue opinioni, però, insomma, se danno dimissioni in massa a tutti gli astronauti, è un po' strano. E capisco che questo sia un pochino il taglio che cerca Mazzucco, magari, nel documentario, facendo vedere tre dimissioni grosse tutte insieme, però un conto è l'amministratore della NASA, il viceamministratore, che come dicevo ci sono le motivazioni politiche, un altro è Walter Shearer, che era uno degli astronauti. Quindi è un po' diverso da questo punto di vista. Ora, tornando indietro e vediamo perché si parla di Walter Shearer, perché era così importante, brevissima storia su chi era. Era uno dei astronauti iniziali, dei primi sette selezionati nel 59, per essere uno di loro sarebbe diventato il primo a essere primo americano nello spazio, e, beh, all'epoca non sapevano che sarebbero stati battuti, quindi il primo essere umano nello spazio. Finisce nello spazio con la missione Sigma-7. 9 ore è la durata della sua missione e 6 orbita intorno alla Terra. Durante la sua missione, comunque, dimostra una capacità di gestire problemi imprevisti e anche portare a termine una missione molto complessa, essendo tra i primi umani che vanno nello spazio, quindi è tra i primissimi tra l'altro che va in orbita intorno alla Terra. E per cui avrebbe avuto anche molti imprevisti e per questo già viene visto molto di buon occhio per le missioni future, perché ha tutte le carte in regola per essere un leader. John Glenn, nella missione prima di lui, aveva peraltro portato nello spazio una fotocamera per fare delle foto dall'oblò della navicella Mercury. E la camera che si era presa era una camera normalissima, da 40 dollari a basso costo. Walter Shearer era molto appassionato di fotografia, per cui quando va nello spazio si compra una macchina fotografica di alta fascia e una Hasselblad 500C con le ottiche Zeiss la porta nello spazio e scatta delle foto bellissime della sua missione. Quindi la NASA ci fa a casa questa cosa e dice, caro Walter, ma sta macchina fotografica fantastica ce la presti? E fanno delle analisi, vedono come funzionano le foto e cercano di capire se possono darla anche ai futuri astronauti, magari personalizzandola. Questo è l'inizio della collaborazione tra la Hasselblad e la NASA, che porterà poi dopo la Hasselblad a collaborare per creare le camere che sarebbero andate poi effettivamente sulla Luna. Inizia tutto da qui, da Walter Shearer. Lui è molto curioso di questa cosa, era molto bravo anche come fotografo. Infatti mi dispiace un sacco anche a me che non è rimasto nel programma Apollo perché mi sarebbe piaciuto da morire vedere che foto avrebbe scattato magari sulla superficie della Luna o in viaggio verso la Luna, visto che aveva occhio ed era molto bravo come fotografo in generale. La seconda missione che fa è la missione 6A della Gemini e questo è un rendezvous nello spazio con la Gemini 7 e arriva a circa 30 cm dall'altra navicella. Ora immaginatevi l'attenzione di essere tra i primi che fanno un rendezvous, cioè due navicelle che si incontrano nello spazio e mentre sei a qualcosa come 8 km al secondo, più di 26.000 km allora devi incontrarti con un'altra navicella a 30 cm e con strumenti che non solo come ora che hai tutti gli strumenti sofisticatissimi di intelligenza artificiale, guida automatica a satelliti eccetera, alla fine, all'epoca la facevano con calcoli a mano. Guardatevi tra l'altro First Man in cui si vede una scena dentro la navicella Gemini così vedete come era lo spazio all'interno quando c'erano due astronauti separati da un pezzo metallico con i sistemi di guida e dovevano orientarsi guardando fuori dal finestrino e vedere dov'è l'altro pezzo dell'altra navicella e con vari strumenti altimetro eccetera che calcolavano quanto era in alto e in basso a che velocità si muovevano e dove era l'altro pezzo. Quindi anche questa missione strepitosa getta le basi anche per le missioni Apollo come tutte le missioni Gemini perché era un intero programma dedicato ad andare sulla luna e quindi volevano fare esperienza con le cose di base tipo camminare nello spazio, check, fare il rendezvous perché dopo devi agganciarti con il modulo di comando e il lander perché vanno insieme fino alla luna, poi il lander scende sulla superficie, il modulo di ascesa riparte e si riattracca alla navicella Apollo e poi ritornano a casa. Ma se tu non riesci a fare tutti questi attracchi smontati, non riesci ad arrivare fino alla luna per cui era fondamentale imparare a fare il rendezvous e incontrarsi nello spazio. Quindi in questo caso fu assolutamente importantissimo. Poi viene soluzionato per il programma Apollo e lui continua. Nel frattempo però il suo carattere dal leader che è un'altra faccia della medaglia. Lui è un carattere molto molto duro, un po' burbero ma molto duro, molto serio per tante cose e specialmente lui aveva una buona preparazione di ingegneria. Fantastico da questo punto di vista. E insiste molto nel come andrebbero progettate, come dovrebbe farle eccetera. Non gli danno molto ascolto anche perché le navicelle Apollo vengono fatte da qualcuno altro. Tu devi occuparti solo di guidarle, non ti stare a rompere le palle su come vengono fatte. Finché poi dopo non succede il disastro di Apollo 1 e poi viene richiamato lui a essere il capo uno dei tanti che si occupa della riprogettazione e lui deve lavorare come uno dei riferimenti come astronauta. Quindi deve dire lì tu che vai nella navicella come astronauta aiutaci ad aiutarti a creare una navicella migliore per te. Quindi lui lavora molto insieme al team di North American a riprogettare la navicella Apollo dopo il disastro di Apollo 1. Ed è molto rigido da questo punto di vista. Insiste tanto. E abbiamo tutti i documenti di testimonianze per quello vi dicevo di incrociare le fonti. Una parte la possiamo ricostruire dalla biografia della sua e da quello che altri menzionano di lui. Anche della NASA che sappiamo abbiamo le trascrizioni di tutte le missioni. Possiamo vedere parte del suo carattere dalle trascrizioni effettive di quello che lui diceva e faceva. Dopodiché abbiamo le trascrizioni tecniche che lui mandava come segnalazione di quello che non funzionava nelle capsule Apollo. Abbiamo tutta la documentazione anche per come veniva riprogettata. E sappiamo da le biografie di altri che per esempio Walter Shearra insisteva tantissimo in tutti i piccoli particolari. Con gli ingegneri era sempre lì a dirgli questa cosa rifarla meglio, questo che cos'è, questa non funziona, rimanda indietro e addirittura saliva su con la lista dei problemi agli amministratori della NASA e gli diceva volete la navicella pronta? Beh allora portate il sedere qui e in fabbrica e state a vedere cosa stanno facendo. E quindi ha trascinato più volte vari dei amministratori, non amministratori generali ma dico per singole sezioni, per fargli vedere quello che stava succedendo per fargli seguire da vicino questo progetto. Ci teneva un sacco. Era un molto rompipale da questo punto di vista. A buona ragione. Quindi cosa è successo? Dato che lui stava preparando il ritorno con la navicella Apollo degli astronauti nello spazio dopo quello che è stato il disastro Apollo 1, era una figura molto importante. lui avrebbe guidato la missione, la prima missione con esseri umani nello spazio dopo Apollo 1. Molto si giocava sulle sue spalle. E quindi per evitare che qualcuno pensasse che lo fa magari in vista di chissà che cosa o altro, questa è una delle motivazioni che vengono espresse all'epoca e che lui decide di volersi concentrare solo su questa. Decide di far sapere a tutti che tutto quello che lui vuole fare riguarda solo questa singola missione, poi va finito. Non vuole più saperne di tutto il resto, eccetera. Non perché non ci tiene, ma perché ci tiene tanto a questa singola missione e vuole fare solo questa. Di nuovo, voi potrete dire, ma secondo me no, secondo me la motivazione è questa. Quando parliamo di cose soggettive, ovviamente poi lui avrà la sua storia da raccontare personale. Noi possiamo sapere da fuori quello che effettivamente ha fatto. E quello che ha fatto è dichiarare di volersi concentrare solo su questa missione. L'ha preparata, ha preparato il resto dell'equipaggio e insieme nella missione Apollo 7 sono stati i primi ad fare una missione di successo della missione Apollo e ha funzionato benissimo. Hanno avuto comunque dei problemi loro, c'è stata una storia tra l'altro dietro di una mezza ribellione perché mentre erano in volo si sentivano male per via dei micranei perché i ritmi di lavoro erano stati molto intensi e avevano un po' di problemi con il conciliare i ritmi di lavoro più le dirette che dovevano fare televisive e quindi a un certo punto di vista della NASA saltiamo una diretta televisiva perché non ce la fa, sono troppo sto male. E quindi la NASA non era molto contenta di questo e poi quando stavano tornando indietro con la navicella Apollo gli avevano detto raga mettetevi i caschi e tutto quanto, lui disse no per via dell'influenza perché avevano l'influenza, sono passate a vicenda l'influenza stavano uno schifo e non volevano mettersi il casco ci fu una delle polemiche su questo sul rientro e quindi forse anche in questo caso c'è stato un po' di batti vecchi con la NASA però alla fine lui rimane comunque legato alla NASA rimane anche nel 68 l'ultima cosa che fa come astronauta della NASA e la guida all'indagine intorno al simulatore di atterraggio di Neil Armstrong che era accascato si era distrutto con Neil Armstrong che era andato a maggio, è andato lontano a maggio del 68 Neil Armstrong si è salvato ma il simulatore che usava per simulare l'atterraggio sulla Luna era esploso ora, era esploso una volta di centinaia di prove, centinaia di altre volte ha funzionato benissimo quella volta in tutto mi sembra fossero più di 700 voli di quei simulatori, ne hanno costruiti 5 alla NASA e alla fine ci sono stati 3 incidenti e nessuno mortale però comunque era un incidente importante, mancavano 14 mesi ancora fino alla missione Apollo ma comunque bisognava sapere cosa ha funzionato e cosa no per migliorarlo e lui si è occupato anche di questa indagine dopo aver già dato ufficialmente intortrato il paper per le dimissioni dopodiché è rimasto comunque legato alle missioni Apollo ed è rimasto in tv, lui commentava in tv alla CBS, alla tv nazionale americana gli allunaggi in diretta ora, se non voleva avere niente a che fare, se non voleva mentire se non voleva essere associato a questa roba perché gli sembrava l'Oscar a me personalmente, convince poco che lui, però d'altra parte andasse a parlare delle missioni Apollo con tanto entusiasmo in tv davanti a tutti e non la tv tipo ora che magari viene invitato in tv e ci sono tanti canali eccetera sei su skype in un'intervista, no no no, era la televisione nazionale, la CBS in uno dei momenti di picco più alto di pubblico di sempre eri letteralmente davanti all'intero pianeta a parlare di queste missioni in diretta un po' strano se lui voleva scappare da tutto questo se non voleva avere che fare perché poi dopo lui è stato, poi dopo per tutto il programma Apollo in tv eccetera ma non è che era obbligato, non lavorava per la NASA, non aveva più un contratto con la NASA quindi questo è il motivo per cui a me personalmente convince molto di più che avrà avuto le sue ragioni, avrà avuto altro per la testa, avrà selezionato le sue priorità e noi possiamo solo speculare però a distanza di tanti anni e quello è, non posso darvi una risposta certa, secondo me è stato con certezza così ma a me convince molto di più che avrà avuto le sue ragioni specialmente visto questo rapporto di amore e odio che c'era all'interno della NASA riguardo a lui e il suo caratteraccio molto molto forte riguardo a insistenza sulle missioni eccetera che ha funzionato perché la navicella è cambiata da così a così quindi lui ha fatto da ottima guida per riprogettare la navicella Apollo un'altra cosa importante che lui lascia in eredità è che quando riprogetta lavora la ristrutturazione di Apollo si porta dietro anche diverse persone con cui aveva lavorato precedentemente quando per esempio passa da McDonnell la costruzione della navicella a North American lui insiste per portare anche Gunther Wendt che aveva lavorato prima alla progettazione della rampa di lancio e tutto quanto e lui diventa pad leader per responsabile per la navicella al lancio per tutto il programma delle missioni Apollo fino anche a Skylab che sono le prime stazioni spaziali della NASA ed è stato portato lì da Walter Shear perché si fidava tantissimo di lui e pensava fosse una delle persone più importanti da portare via e infatti è stato così quindi è stata una delle persone più di rilievo e che tutti gli astronauti ricordano spesso nelle loro biografie è bello vedere che comunque anche se lui ha lasciato è rimasto un po' della sua storia dentro la NASA tipo Hasselblad tipo come vedremo anche i microfoni che ha selezionato lui è stato il primo a testarli in orbita e quindi la sua influenza per le missioni è stata enorme ha dato tantissimo a queste navicelle e se fossero finte se Apollo 7 fosse finta cosa che tra l'altro neanche Mazzucco dice non voglio dire che l'ha detto a nessuna parte però Apollo 7 ha funzionato e ha dimostrato che la navicella funzionava per cui per tutte le altre missioni la navicella qui siamo sul sicuro che era effettivamente funzionante quindi questa non era finta anche perché lui stesso l'ha riprogettata eccetera quindi secondo me sul piatto della bilancia qualsiasi sia stata la motivazione di Walter Shearer per lasciare la NASA non pesa quanto tutti gli astronauti che sono rimasti quindi da una parte capisco l'obiezione di Mazzucco perché anche a me sembra strano e avrei tanto voluto vederlo per tutto il programma Apollo sarebbe stato meraviglioso averlo però dall'altra parte lui ha le sue motivazioni ha avuto la sua vita e tutti gli altri astronauti sono rimasti e la navicella funzionava per cui mi sembra poco per giustificare per iniziare a sospettare che davvero non siamo andati sulla Luna quindi non è abbastanza convincente secondo me ovviamente poi fatemi sapere voi sotto le vostre opinioni e con questo abbiamo concluso la parte delle dimissioni sospette e ora passiamo a un altro argomento nella prossima puntata e ora passiamo a un altro argomento e ora passiamo a un altro argomento